Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Wasgamer e oggi siamo su Bioshock Cos'è sta roba? Cos'è sta roba che brilla? Niente Ma io qua scongelerei un po' di... Non so perché, ma... Ma... Là fuori che cosa sta succedendo? Tonno Eh, il kit live è veramente proprio... Sta succedendo? Eh, che sta succedendo? E ora lo posso prendere il kit live Dammelo Ok Qua possiamo andare e... Questa non l'abbiamo visitato ancora Come? La pescheria? Siamo in pescheria? Ah, guarda, qui c'è un passaggio Sarà sicuramente qualcosa di interessante Pesci Pesci Vediamo Dollari Wow Basta 249 dollari E qua, qua su cosa c'è? No, niente Ok, ma io rivoglio la mia roba Ridammi la mia roba No, non sono bloccato Non ti preoccupare Devo uscire di nuovo Da qui E riprendermi la mia roba Se non erro Dammela Ok, sono bloccato Scegliere il ghiaccio Piano interrato Fontaine Fisheries Eh, sono qui Io so che devo usare il fuoco No, ah, ecco Eccola la mia roba Mi ero perso un attimo Ah, finalmente Ecco Queste sono le I potenziamenti Allora Potenziamenti Non c'è aumento Il danno Del fucile Io aumenterei Il danno Della mitragliatrice Più colpi Più tutto Eh, qua dobbiamo Dobbiamo Squagliare tutto Vediamo lì cosa c'è Ecco Eh, si fa sentire Il danno Fantastico Ma gira Non l'avevo vista Eccola Eh, questa Non è facile Non è facile Anche perché Ah, quasi tutto Liscio come l'olio Ah, wow Allora, dammi la roba Aspetta Vediamo qui Eh, me l'hai dato Un po' di roba Sì, sì Cos'è questo rumore? Mi è sganciato tutto Avevi poco da offrire Vai Ah, ecco il passaggio Ecco Che è sta cosa? Ah Si fotta Si fotta 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 Basta Eh, devo Squagliare questo E si va avanti Bene ragazzi Per oggi Penso che basti E noi ci becchiamo Alla prossima puntata Chi Oui E Aspetta A